Ciao a tutti e bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è Rispagno e bentornati in un nuovo video un nuovo video in cui andiamo a fare un punto della situazione dei miei investimenti in questo caso dicembre 2020 ma ovviamente essendo l'ultimo mese dell'anno andiamo a fare un'analisi un po' più approfondita di tutto l'anno del 2020 come è andato dal punto di vista degli investimenti, il mio personale anno e spero che questa condivisione sia di tuo gradimento e se così fosse lascia un bel pollice in su e in ogni caso ovviamente devo ricordarti che se sei nuovo sul canale potresti iscriverti e cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo prima di partire inoltre vorrei ricordarti che mi puoi seguire anche sul mio blog che è www.risparmioinvesto.com dove pubblico un articolo ogni lunedì su Instagram io underscore risparmio e poi qui su YouTube dove pubblico ogni martedì e ogni venerdì un nuovo video e giovedì live quest'anno 2021 partiamo con una nuova trasmissione Rizza le orecchie dove andiamo a approfondire il mondo Ritz, vado ad analizzare alcune aziende live insieme a voi e così cerchiamo di creare un portafoglio di Ritz in demo inoltre ovviamente continuiamo la nostra avventura con Buonanotte Mercati con tutti i miei amici per cui andiamo a mandare un'occhiata al mio portafoglio a come si è andata ad evolvere la situazione finanziaria insomma un po' tutte le cose per cui eccoci sul file Excel e come si può vedere è un po' cambiato qualcosa Cryptalia qui la vediamo a zero perché ho deciso di operare un po' in maniera diversa nel senso che faccio molto trading sul secondario compro i vari pressi e poi li rivendo cercando di fare un capital gain nel breve periodo mi piace di più questa cosa il mercato secondario è molto più utile secondo me perché è molto più liquido poi abbiamo trading 212 il 65% di tutto il mio capitale e il fondo di emergenza il 35% dove siamo arrivati? Fondo di emergenza 5.728 euro e per quanto riguarda i miei investimenti di trading 212 10.482 euro questo significa che siamo arrivati a possedere nella nostra famiglia 16.210 euro questo include non solo i soldi versati sul conto broker ma anche il capital gain per cui andiamo subito un attimino a vedere quello che è trading 212 in questo momento e qui possiamo notare delle novità ma andiamo subito a parlarne oltre al mio portafoglio REITS al mio portafoglio ETF e al mio portafoglio azionario possiamo anche vedere che c'è un nuovo pack per il mio figlio ci ho fatto un video in proposito insieme all'Alessandro Tassoni di leggere i dati ma ovviamente poi ci farò un video dedicato andrò a spiegarlo un po' nel dettaglio più avanti per quale motivo ho preso determinate decisioni e tra l'altro vorrei vedere se mi conviene oppure no andare a spostare questo pack su un altro broker pensavo del giro per vari motivi per tenere un po' le due cose separate diciamo che questo pack non lo vorrei inserire negli aggiornamenti che vado a fare sui miei investimenti perché è un qualcosa di totalmente diverso ma ci sto ancora pensando ci andrò a ragionare nei prossimi giorni comunque nel mio pacchetto azionario abbiamo un 33% di REITS e come ho detto in passato questo voglio che vada a coprire nel futuro non adesso, un 80% del portafoglio totale in questo momento un 33%, un 4% del pack di mio figlio l'ho iniziato solo a dicembre 37% azionario e 11% ETF che però è tutto azionario per cui questi due voci le voglio agglomerare assieme per cui un 48% è tutto azionario e poi un po' di liquidità che investirò a gennaio quando vado a ribilanciare il portafoglio oggi lo facciamo insieme ovviamente dopo aver ribilanciato il portafoglio vado solo a comprare diciamo le parti del mio pack ma non vado a usare tutto il capitale andiamo un attimino a vedere per cui sempre in questa voce in questa finestra come è andato questo anno allora prima di tutto andiamo a vedere le best e le worst performance vediamo se si vede meglio così magari si riesce un attimino a capire i numeri con più semplicità la posizione che mi sta rendendo di più in questo momento è un ETF i NRG l'ETF sulle energie pulite e rinnovabili più 56% da quando ho aperto questo portafoglio che ricordo è partito solo l'ultima settimana di luglio anzi gli ultimi due giorni di luglio per cui è da agosto che sto investendo in 3212 Fiverr un 38.83% i PR Innovative Industrial Properties un REIT un più 29% poi Logitech un 25.4% le peggiori performance di questo portafoglio sono Affin che è un altro REIT 6.72 meno 6.72% Klig che è un'azione del mercato inglese che ho introdotto da poco ci ho fatto un video a proposito magari lo lascio qui da qualche parte Nvidia meno 0.83% poi Stag un meno 0.69% per cui in linea di massima un portafoglio che sta performando bene andiamo a vedere come è andata a performare appunto il portafoglio a dicembre e più che come ho chiuso questo 2020 il portafoglio a fine anno totali tutti e tre diciamo questi portafogli incluso anche quello di mio figlio hanno fatto un più 9.2% il portafoglio il portafoglio etf mi ha reso un più 20% il portafoglio azionale un più 8.9% e il portafoglio degli REIT mi ha reso un più 6.9% ovviamente avendo delle dinamiche diverse nel senso che ogni portafoglio ha dei valori investiti diversi alla fine questo è quello che ne viene fuori ho aperto il conto a dicembre con 8.222 euro ho fatto delle aggiunte per 1.800 questi soldi vanno a includere anche i miei intro di youtube e tutto quello che sono i link affiliati io di solito quei soldi non li considero li metto tutti quanti nel portafoglio di investimento ho avuto 8.98 euro dei dividendi che è il mese maggiore ma ovviamente più aumenta la mia esposizione alle aziende o ai REIT che rilasciano i dividendi più questo valore aumenterà per un totale di tutto il 2000 è 20 che si è chiuso con 24.35 euro lordi di dividendi con un profitto totale per quanto riguarda capital gain per cui non avendo venduto questo non è soldi che ho messo in tasca è un capital gain del portafoglio totale di 803 euro circa bene passiamo al ribilanciamento il problema di passare al ribilanciamento volevo fare notare due cose la prima io utilizzerò il ribilanciamento automatico di 30212 e voglio fare vedere anche perché uso questo broker allora partiamo dal portafoglio di mio figlio che è stato aperto da poco per cui qui non c'è molto da fare queste sono le percentuali che mi ero posto come obiettivo 45 45 e 10 sono 44.55 45.46 e 9.99 non vado a perdere tempo diciamo a ribilanciare questo portafoglio per pochi centesimi magari lo rifarò solo per questo portafoglio a diciamo giugno-luglio dopo un semestre e ripeto non so se lo sposterò su di giro questo è il portafoglio etf queste sono le due aggiunte che dovrei fare per cui delle aggiunte semplici invece di vendere qualcosa potrei solo aggiungere qui avvicinarmi alle percentuali che ho come obiettivo anche se non sono quelle finali potrei anche vendere qui qualcosa e poi riandare a ribilanciare di nuovo dopo un semestre per andare a coprire quelle che sono le percentuali che mi sono proposto il portafoglio etf c'è un po' più da fare ci sarebbe da comprare un po' di queste un po' qui un po' lì per raggiungere le nuove percentuali che mi ero proposto e il portafoglio azionale anche qui solo acquistando non riesco se voglio mantenermi nel budget che mi sono dato per il piano di accumulo dovrei vendere qualche posizione per cui ovviamente quello che ho deciso di fare con il nuovo anno è di andare a ribilanciare il portafoglio in maniera automatica così come trading in 212 ovviamente ci aiuta a fare in maniera automatica risparmiandoci un po' di problematiche e poi successivamente dopo aver bilanciato il portafoglio vado a investire quelli che sono i piani di accumulo per cui 300 per quanto riguarda il piano di accumulo dei RITS 300 per quanto riguarda il piano di accumulo sull'azionario 150 per quanto riguarda il piano di accumulo sul mio figlio e 100 sul mio piano di accumulo personale anche se quello personale sugli etf vorrei interromperlo per poter far sì che quello di mio figlio possa crescere per i prossimi due anni per cui verserei solo in quello di mio figlio per un paio d'anni per dare un boost e poi magari quello lo passerei intorno 50 euro al mese e ritornerei 150 sul mio personale per cui andiamo a fare subito il ribilanciamento automatico su trading 212 e poi ovviamente andiamo a vedere di rinvestire anzi di investire il nostro piano di accumulo insieme per cui eccoci adesso su trading 212 andiamo subito ad andare a fare i nostri ribilanciamenti automatici perché non ne vale assolutamente la pena di andare a perdere tutto quel tempo fare i calcoli anche perché gli aerogrammi sono qui proprio per questo motivo unica cosa io sto facendo questa operazione il primo di gennaio che è festa i mercati sono chiusi e lo faccio per un motivo particolare perché so che successivamente dovrò e questo sarà qualcosa che è relativo ad un altro video andare a reinvestire appunto i soldi del mio pack e voglio farli live perché voglio andare ad aggiungere un'azienda nuova che ho diciamo studiato nel mio portafoglio di azionario e voglio andare ad aggiungere un altro paio di REITS nel mio portafoglio REITS e voglio eliminare altre aziende che ho al momento e poi appunto una volta che ho fatto queste aggiunte vado a mettere anche i soldi del mio pack per cui questo è un qualcosa che faremo live o in un successivo video in maniera tale che vi faccio vedere tutti i passaggi qui voglio semplicemente far vedere quello che è la dinamica del ribilanciamento per cui partiamo dal mio stock portafoglio andiamo nell'aerogramma andiamo in proprietà e in questo caso delle 17 proprietà abbiamo quello da un lato sul lato destro abbiamo l'obiettivo quello che nella diciamo nella nella PAI nell'aerogramma l'azienda dovrebbe pesare e quello che invece sta pesando in questo momento come si fa come si può vedere alcune in alto sono meno di quanto che il mio obiettivo altre in basso ancora di meno perché le ho aggiunte da poco e invece qualcun'altra come si può vedere è oltre questa dovrebbe essere un 6% in 8.2 tra l'altro quella che è di più è questa se non sbaglio Fiverr ma anche insomma insomma ce n'è qualcuna che va oltre allora come si fa si preve semplicemente se lo ribilancia e qui ci viene fatto diciamo ci viene fatto vedere quali saranno le operazioni che saranno fatte nel momento in cui il mio ortafoglio sarà andato a bilanciare per cui andrà a vendere 3212 questi valori per quanto riguarda queste aziende qui e poi andrà a ricomprare questi altri perché fa così perché in questo modo mantiene l'aerogramma in un certo modo con le stesse diciamo con lo stesso valore e vendendo e acquistando un po' si va a mitigare quello che può essere l'eventuale diciamo capital gain o loss del portafoglio per cui andiamo a cliccare ribilanciamento qui ovviamente ci è data l'informazione che tutte le operazioni saranno fatte ad apertura dei mercati che sarà lunedì 4 confermiamo e per cui questo ribilanciamento andrà fatto lunedì poi andiamo sul leads portafoglio andiamo a ribilanciare di nuovo conferma ribilanciamento e anche qui il ribilanciamento sarà andato a fare lunedì e anche nel long term portafoglio andiamo a ribilanciare conferma ribilanciamento anche qui ci dice che verrà fatto quando lo stocks exchange sarà aperto perfetto 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 i ribilanciamenti sono stati messi in macchina e per cui lunedì mi aspetto che questi ribilanciamenti vengano fatti tutti così come ho voluto che io venissero implementati in base alle percentuali che ho dato io al sistema bene se questo video è stato di tuo gradimento ti chiedo come sempre di andare a cliccare il pollice in su per fare capire a me e all'algoritmo di youtube che questo è stato il tuo gradimento e andando a iscriverti al canale cliccare la campanella delle notifiche ovviamente se sei nuovo sul canale ti volevo ricordare per l'ennesima volta che non mi puoi solo trovare qui su youtube dove pubblico martedì e venerdì e dove faccio le live giovedì con le due nuove con le due nuove programmazioni live ma che mi trovi anche sul mio blog www.risparmioinvesto.com dove pubblico ognuno di e su instagram io underscore risparmio bene anche per oggi è tutto e spero che questo video sperimento che questo 2020 sia stato proficuo per te e che il 2021 sia ancora di più e ci vediamo al prossimo video ciao